Grazie a una battaglia di Fratelli d'Italia, la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale quel prelievo truffaldino che Monti e Lafornero fecero ai tempi del Salva Italia sulle pensioni da 1.400 euro bloccandone gli adeguamenti. Quando la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale il prelievo sulle pensioni d'oro, noi abbiamo manifestato sotto la Corte Costituzionale, ma il Governo ha restituito a quei pensionati d'oro che hanno pensioni stratosferiche per le quali in moltissimi casi non hanno versato i contributi tutto il dovuto. Oggi il Governo deve restituire il dovuto anche alle persone normali, a chi prende una pensione da 1.400 euro per la quale si è versato 40 anni di contributi che non si può esattamente dire un privilegiato. E se il Governo non dovesse farlo, noi con Fratelli d'Italia offriremo ai pensionati italiani assistenza legale gratuita per avviare una class action contro il Governo e far restituire a questi italiani il mal tolto. Potete chiamare il numero di telefono 066990774 oppure scrivere alla mail difendoipensionati-fratelli-italia.it. Ci sarà un pool di avvocati che vi aiuterà a far valere i vostri diritti.